È stato comunque un inizio d'estate un po' particolare per te, tutti i giorni leggersi il proprio nome sui giornali. Sì, è vero, oggi è un po' particolare perché non sono ancora sicuro del mio futuro, però questo, come tutti i mercati, è un po' di questa cosa, quest'anno magari è un po' di più. Per me è importante di non pensare troppo a questo perché c'è una preparazione da fare e che io so che io voglio un'altra scuola, devo fare bene la preparazione perché voglio fare bene per quest'anno e per quello che provo a non pensare troppo al mio futuro. Nella testa hai una data in cui dici che entro il primo agosto voglio sapere dove gioco? No, idealmente si vuole sempre sapere anche prima, però oggi sono qua a Verona, sono giocato del Chievo e sono felice di essere qua oggi e poi vedremo con la società le cose migliori per me. Però io stare a Chievo per me non è un problema, mi sento bene qua, mi sento bene anche oggi di ritrovare la squadra, di ritrovare un po' la società, poi come ho detto vedremo più avanti cosa è successo. Tu hai sempre detto appunto sto bene al Chievo, andrai via solo per andare insomma in una squadra di livello e si è parlato anche dell'estero, preferiresti rimanere in Italia o sarei disposto anche a giocare in un altro paese? Sì ma questo è il mercato che decide, io mi ho, sì mia prima scelta è solitamente stare in Italia perché è un campionato che mi sono trovato adesso bene, ho le misure del campionato, mi sento bene qua in Italia per vivere un po' tutto e per quello vedremo. Come ho detto oggi sono a Chievo e sarà magari ancora il 31 agosto qua a Chievo e non sarà per me un problema. Grazie a tutti.